Dove mi trovo? Devi aver subito danni critici, soldato. Ti trovi sul pianeta Metalis, dove è in corso la terza guerra robotica. Metalis? Ricordo solo che stavo parlando con Luna. Dopodiché... Ti è andata bene. Ti conviene darti una mossa, soldato, o farai la mia fine? Deve è un po' di壁. Non si può fare solo, è un po' di giusto. Oh, è un po' di giusto. V explosioni da un po' di giusto. Di giusto. Ancora andata, non ci di rispondere. Abbiamo di spazzire di Robo, per favore essere i nostri spazzini. E un po' di giusto, mi piace dire il piatto. Mi sento è un po' di giusto. Sei anche un po' di giusto! Delle ma anche un po' di giusto. Oh, tutto questo. Interessi è un po' di giusto. Grazie a tutti. 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 a tutti.